ciao a tutti piccolo piccolo all beauty perché doveva arrivare un ordine chicco ma non è ancora arrivato vi faccio vedere quello che ho così posso utilizzarlo e metterlo via e non rimetterlo nella busta allora da hypershop avevo comprato la tinta a mia mamma e lei mi ha messo questo vicino nella cassa detto si è sbagliata ma no guarda in omaggio mi è andato in omaggio questo shampoo l'erborista antica erboristeria capelli grassi a me costano poco questi poi mi hanno mai usato tantissimo quindi sono molto molto contenta mi piace un sacco lo proverò per sapere poi sempre da hypershop ho preso maschera a carbone vegetale purificante naso della royal beauty la royal beauty fa un sacco di mascherine interessanti se vi posso interessare la royal beauty fa anche accessori truffo e viso poi sempre da hypershop no non la hypershop aspetta no da hypershop non questo ti gusta dai cinese cinese ho preso questa candela profumatissima che profuma anche da spenta una cosa assurda mamma mia la vaniglia candela della dea candela profumata vaniglia della dea molto molto buona e ho preso 290 la jumbo eye shadow matitoni occhi dell'astra che ha questo rose gold che sull'occhio è molto rosa molto fucsia e ho preso l'asta jumbo eye shadow che è il packaging precedente questo bianco per l'altro bianco molto carino infine d'attività cercavo stamattina non la trovavo nella dentro fantastico ho preso tutto però guarda quanto riguarda la skin che sapete che io sono ossessionato della skin che non si era capito scrub viso ecco biologico e sfolente purificante pelle levigate effetto peeling della omia della linea aloe vera non mi ricordo il prezzo però non vedo da riprovarlo visto che la mia mi piace un sacco poi ho preso dell'equilibra aloe maschera viso anti aging questo l'ho già provata mi piace un sacco infatti sono un po adesso quando mi finiranno le creme della omia non so se per il nuovo omia quella dell'acqua di rose della roberts può essere oppure questo fatemi sapere cosa mi consigliate te equilibra omia o quella dell'acqua di rose questa era un fatto l'ho presa la provata molto buona ma la vera chicca di questo video è questo non so se lo vedete è lo scrub quello ha 3 zuccheri fini semi di kiwi purifica e riduce i punti neri io l'ho fatto stamattina poi l'ho fatto la maschera dopo viso e labbra ah vedi io pensavo non poterlo fare viso e labbra ok è veramente fantastico lascia la pelle liscissima senti un po di livemente un po di calore e apre i pori è fantastico io ho preso 6 95 perché è un'offerta se no viene 9 95 dati quota vanno sempre in offerta sia questi sia le maschere che vede questo strato consiglio e poi poi ultimo pezzetto pezzo questo cardica non è bellissimo non è stupendo troppo bene cambica un peso da mia mamma che rimane aperto molto morbido molto caldo l'ha pagato 34 può essere non credo che lo sia di sconto però il prezzo originale era 34 euro e niente questo era il mini haul spero vi sia piaciuto lasciate un like un commento iscriviti al canale azionate la campanella vi mando un rassobato e ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao